La Fondazione Cassa di Risparmio è uno sponsor di questa iniziativa da quando è stata istituita. Questa iniziativa raccoglie in sé diverse missione della Fondazione, la missione sociale che è sicuramente quella prevalente, quella di formazione, di preparazione, di istruzione forse un po' troppo forte, ma di formazione sicuramente, e quella della ricerca scientifica. Tutti e tre questi temi si sono coniugati nella settimana che noi stiamo introducendo oggi perché le scelte, le iniziative e gli interventi che vengono proposti sono tutti con grande ricaduta sociale, hanno una valenza formativa e partono da una progettualità scientifica che deve ovviamente esserci perché questi interventi possono essere di successo, possono essere profitti di sicuro. Un progetto che sicuramente è vicino ai temi che sono stati discussi oggi è quello della riqualificazione del comparto Sant'Agostino che certamente è, visto che se ne parla in questa settimana, un edificio di valenza architettonica e di valenza artistica che viene ristrutturato nell'ambito della città ovviamente con grande contributo della Fondazione Cassa di Risparmio che quindi vede, diciamo, esprimersi in questo la sua vocazione appunto al recupero edilizio per restare nei temi della giornata, sì, della settimana odierna a contribuire appunto al recupero edilizio degli edifici del territorio, edifici storici alla riqualificazione, alla ristrutturazione, i temi che sono oggetto di questa settimana che in qualche modo si coniugano quindi nell'operato della Fondazione.